Si appresta ad accogliere questo importante raduno, questa manifestazione di primo livello che porterà sul suo territorio un turismo senz'altro di qualità. Sì, Bardolino è maestro nell'accoglienza e quindi ogni anno a Bardolino arrivano oltre due milioni di presenze dal punto di vista turistico, quindi sicuramente siamo pronti ad accogliere un raduno molto importante come quello che sarà a Bardolino a settembre del 2020. Come dice la soddisfazione proprio per il suo comune di essere stato scelto come comune capofila per un evento di questa portata? Sì, diciamo che la manifestazione è la prima che viene portata sul lago di Garda, quindi è un'eccellenza che tra parte nostra come comune di Bardolino siamo veramente orgogliosi che il nostro comune sia stato scelto perché comunque la capacità imprenditoriale, la capacità anche dell'amministrazione e del gestire le manifestazioni si vede nello svolgersi dell'anno e della stagione con le oltre 240 manifestazioni che facciamo ogni anno. E con questa manifestazione appunto l'anticipato va ad impreziosire tutta l'offerta che poi date ai turisti nel corso dell'estate, no? Sì, sicuramente questa manifestazione sarà una dei vari fiori all'occhiello delle manifestazioni che abbiamo nel Palinsesto durante la stagione estiva.